Welcome back e bentornati sul mio canale. Siamo arrivati in un video inedito perché oggi andremo a spacchettare tutti i premi mensili e settimane della Weekend League. Siamo in compagnia di mio cugino Giovanni Pavlovich. Ciao ragazzi! E quindi andiamo subito, iniziamo. Andiamo nel negozio. Abbiamo ben 8 pacchetti da aprire. Un pacchetto onorari, un pacchetto mega, un pacchetto giocatori rari maxi, due pacchetti giocatori rari maxi da 100.000 crediti. Poi abbiamo un pacchetto ultimate, che è un pacchetto che abbiamo costruito nel corso delle settimane, quindi qui ci sarà un tozzo assicurato. Poi abbiamo due pacchetti da un tozzo l'uno e ben 5 tozzo dei premi mensili di oro 1. Inizi tuo ad aprire, Giovanni, e parti con il pacchetto onorari, vai. Pacchetto onorari quando vuoi. Vediamo un po' se è walkout. Non è walkout. Ci esce un overall muslera forse, sì, 83. Sì, va bene così. Secondo pacchetto, pacchetto mega. Ben 30 oggetti. Include giocatori consumabili almeno 26 oro, di cui 18 orari. 3, 2, 1, via. Non è walkout neanche questo. La palla è abbastanza piccola. Dovrebbe essere. Questo è un difensore misaosi e trasferito da poco perché è impronunciabile. Comunque, tutti i giocatori li andiamo a mettere nel club, così magari esce qualche SBC interessante. Ci sono anche molte forme fisiche che sono arrivati ad un prezzo stellare. Quindi questi ne mettiamo nel club. Pacchetto da 100.000 crediti. Giovanni, mi fido di te. Vai. Non è walkout. Però è una stella grossa. Due ce ne stanno. Arda Turan e mi sono... Due 84, mi sa, eh. Vediamo un po' gli altri. Oh, un 83. Rosli Mani. Ah, c'è Gozze e Arda Turan perché è Arda Turan e già ce l'abbiamo doppione, sì. Sì, sì, sì. Quindi due 84, l'avevo visto bene. Tutti questi giocatori li mettiamo tutti nel club perché ci sono delle skill SBC che usciranno tra qualche giorno. Quindi tutto al club e andiamo avanti. Altro pacchetto da 100.000 crediti. Speriamo in un walkout. 3, 2, 1. Vai. Non è walkout neanche questo. Sempre 84. Sì. Sempre 84. 8. Sì. Va bene così, va bene così. Tutto il resto lo mettiamo nel club per la lista trasferimento. Adesso andremo ad aprire un pacchetto con un tots garantito. Te la senti? Speriamo sia walkout perché questo comprende tutti i tots usciti delle sfide. Quindi quando voi possiamo andare. attenzione, attenzione, non è walkout. Vediamo un po' che... Questo è scambiabile però, eh. Dovrebbe essere classe? No. In legna. 86. Questo costerà 20.000. 22.000. Vai a vedere un po' il prezzo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Un altro giocatore. SDST. Un tots garantito. Speriamo in un walkout. Usciamo e rientriamo dal negozio. Facciamo sbaggare un po' FIFA. Finora 0 walkout. Attenzione, stiamo rientrando nel negozio. 3, 2, 1. Vai. Non è walkout neanche questo. Sfortunati. Sfortunati in questi pacchetti. È uno svedese. Sarà tipo walkout svedese. Nilsson Lindelof. Ottime statistiche anche se è abbastanza lento però. Penultimo pacchetto. Questo è un pacchetto ultimate in cui troveremo sicuro un tots. Speriamo walkout. Altre persone hanno trovato anche 2, 3, anche 5 tots in questo pacchetto. Io mi copro gli occhi. Quando vuoi puoi aprirlo. È walkout? Attenzione. Chi ha? Chi è? Non ti ha fatto il conto. Cavolo, ottimo. Lo utilizziamo nella squadra che c'ho. Però aspetta. Quante palline sono uscite? 3. Cavolo. Klaassen e Hutchinson. Però ci stanno un 86, un 84. Questi sono ottimi. Questi qua tutti quanti al club. Ultimo pacchetto. Pacchetto Champions Foot Oro. 3 mensili. Ci sono 5 tots. Speriamo sia walkout. Molto probabilmente è walkout. Lo apriamo insieme. Almeno 3. 1, 2, 3. Attenzione. È walkout. Deve essere per forza walkout. Vai, vai, vai. È una pallia abbastanza grande. Ce ne stanno 5. Italiano. Che lini. Che lini. Buffo. Buffo. Dai. Dai. Cavolo. 96. Quante? 5. Aspetta. Aspetta. Stanno 2. No, ce ne stanno 5. Qua ci può stare la Ingolani. Cantene. La Ingolani è 94. Cantene è 92. Insigne. Allì. Insigne. Tutti i 94 che ci siamo trovati. In più ci può stare pure Dybala che è 95. Ci può stare 2. 95. Sono uscite due stelle grandi e non lo avete. Quindi ci sta? Sicuramente secondo me ci sta un 92. Un altro. Ma se ci sta Cante la fine raga. Andiamo? Andiamo a schifare? No, è andato. Attenzione. Ter Stegen. No, no. Ter Stegen no. Che ci faccio? Due portiri. Va bene, dai. Però già Luigi Buffon che andremo a mettere in porta al nostro team. Andiamo subito a metterlo in porta. Invia al club. Tutta la vita. E poi lo andiamo a mettere in porta. Qui mettiamo tutto al club. E niente ragazzi. Per questo pacco opening è tutto. Io vi invito a mettere un bel like a questo video. Quanti di like chiediamo? Meno 45, 50. 50. 55 like dice Pavlovich. Quindi lasciate un bel like. Iscrivetevi a tutti i social che trovate sotto nella descrizione. Noi ci vediamo in un nuovo video. Un saluto a tutti da Mamata. E da Giovanni Pavlovich. Ciao a tutti. 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 инт toe per fi brani. Ciao a tutti. Grazie a tutti